Ciao a tutti, oggi video musicale molto particolare, parleremo di musica semi-trash, cioè molte di queste canzoni sono trash, altre vabbè accettabili. Comunque, in ogni caso parliamo di tormentoni estivi. Io sono allergico ai tormentoni estivi, li odio. C'è stato il periodo in cui erano proprio aggressivi, perché oggi anche un tormentone come Despacito, che è ovunque, io non l'ho mai ascoltata per intero, perché la subisco quando ci passo, passo davanti a un negozio, la spara una palla, però non l'ho mai sentita per intero. Invece, negli anni della mia infanzia per adolescenza, la musica non si fruiva con internet, è quello che ci salva, si fruiva con MTV o con la radio. E quindi, se passava il tormentone, te lo beccavi e quindi era proprio aggressive, aggressiva manetta. E quindi, niente, ho voluto fare questo video per fare la carrellata dei tormentoni estivi da quando io sono venuto al mondo nel favoloso anno 1992 ad oggi, in modo che i piccolini che mi seguono possano scoprire, oh, chissà che tormentone estivo c'era quando sono nato io. Ebbene sì, scopriamolo assieme. Alcune canzoni proprio le odiate nel momento in cui erano uscite, però ripensarci a distanza di anni, dici, oh mio Dio che nostalgia, no? Perché il tormentone estivo l'utilità è quella, è quella di fracassarti le palle, però ti fracassa talmente tanto le palle che ti ricorda un momento specifico della tua vita, un'estate specifica della tua vita e a distanza di anni ripensarci, dici, ma Dio come sono vecchio! Oppure, ma Dio che ricordi! Quindi, un lato positivo c'è. C'è anche da dire che c'è stato il periodo buio del tormentone estivo nella seconda metà del 2000. Infatti, quelle che ho segnato in realtà erano semplicemente canzoni di successo, ma mancava tra il 2006, tra il 2005 e il 2010, la hit veramente che spacca le palle, no? Quindi ho scelto la canzone più in voga in quel momento per di cui parlarvene. Ovviamente, non potendo infrangere il copyright, quando sarà necessario, spero mai, canticchierò il motivetto, a vostro rischio e pericolo. E quindi, niente, iniziamo. Primo anno, 1992, Matteo nasce a maggio in un fantastico sabato soleggiato e quindi attraversa nella sua prima infanzia l'estate. E cosa sparavano a palla? In radio, quando Matteo aveva pochi mesi sul gruppone, il tormentone estivo era, hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. E lì, proprio, Max Pezzali lanciava le basi per la nostalgia adolescenziale che si è trascinata tuttora avanti. E continua a rimandare poetico agli anni dei motorini, agli anni dell'oratorio, agli anni dell'amicizia pura e semplice, delle ragazze che non si filano. Eh sì, è così. E ancora conserva la sua dignità di pezzo nostalgico, sicuramente. Dal 93 inizia il periodo un po' dance, perché le piste da ballo si infiammano. Gli anni 90 incontrano i primi palpiti dell'eurodance, i primi palpiti del rave. Ovviamente in radio c'erano le cose più pop, quindi Prodigy e Chemical Brothers e quelle cose lì non erano pronte le radio. Però iniziavano a infiammarsi i dance floor con la musica più dance e più truzza possibile. E quindi nel 93, What is Love? di Adway. Spero che la conosciate. What is love? Baby, don't hurt me! Don't hurt me! No more! E l'anno successivo, nel 94, This is the rhythm of the night, di Corona. This is the rhythm of the night, the night. E quindi sì, erano anni folli dal punto di vista del dance floor, ma ce ne saranno tantissimi altri. L'influenza latina, per fortuna, non è ancora arrivata, ma arriverà nel tardi anni 90, per non abbandonarci più. Io mi spiace, sono proprio allergico, lei testive latine. Non ce la posso fare, è terribile. Infatti gli anni 2000 per me sono stati devastanti. Nel 95, questa non la canterò perché era praticamente impossibile. Comunque il tormentone era Scatman John con Scatman, Schibabobobba, Dopopopopop. E infatti è diventata famosa perché tutti provavano a cantarla e nessuno ci riusciva, escluso l'artista in questione. Ma il primo vero tormentone che è diventato talmente iconico da lasciarci convincere che sia quasi una canzone tradizionale, una canzone più vecchia. In realtà ha poco più di 20 anni, perché siamo nel 96, i Los De Rio con Macarena. Con questo balletto così che io vi eseguo perfettamente e con grande sinuosità, con tanto di mossa di fianchetti. Per poi arrivare al 97 con il vero pilastro Eurodance Bubblegum degli anni 90. Gli Acqua con Barbie Girl, la prima di tantissime altre hit, prima che purtroppo gli Acqua si dissolvessero negli anni. Perché purtroppo la Bubblegum Dance è stata una parentesi breve e intensa che ha visto Gli Acqua e i Venga Boys. Li ricordate i Venga Boys? E ce la facevano ballare all'asilo, in gruppo, e non penso che le maestre conoscessero il significato del testo. Però erano le hit che andavano, quel pop un po' facilone, un po' caramellato, ecco. Che poi era in contemporanea con le Spice Girls, le Boy Band, i Street Boys e poi Britney che arriverà dopo a sconquassare tutti e a mandare in crisi milioni di ragazze per poter, spingendola a mostrare l'ombelico con complessi di personalità annessi. Erano anni molto difficili che poi nel 98 portano la prima influenza latina. Perché arriva Ricky Martin. Ricky Martin, rispetto a tutto quello che verrà dopo, ha una certa autorevolezza. Infatti il pezzo, il tormentone del 98 non è neanche male, è la Coppa della Vida ed era la canzone per non mi ricordo quali mondiali di calcio. Comunque era tu, io, ale, 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 madò, che vecchiume. Per poi tornare italiani nel 99 con i Luna Pop. Altro gruppo meteora importantissimo. Non c'era ragazzino che non ascoltasse i Luna Pop in quell'anno lì. Tutti, il 90% dei ragazzi che hanno attraversato un'età compresa tra i 9 e i 18 anni nel 99 possiedono Squareets, l'album dei Luna Pop. E quindi il loro tormentone è 50 special. A ricordarci una giovinezza che se ora viene cantata tramite Snapchat, gli hashtag e Tumblr, nel 99 era espressa attraverso il liberatorio atto di viaggiare sulle strade a bordo di una vespa. Ed era tutto molto poetico, molto romantico. Nel 2000 si inizia l'anno del disagio. Però con la ventata d'aria fresca arrivano Paola e Chiara con Vamos a bailar esta vida nueva. E aprono così gli spirali di frivolezze musicali. Nel 2001 arriva Valeria Rossi. Chi è che si ricorda Valeria Rossi? Magari il nome non dice nulla. Anche perché dopo questo unico tormentone, una sorta di One It Wonder, ha cercato di darsi alla musica più impegnata. Una sorta di musica neomelodica cantautoriale. Ma purtroppo la gran parte delle persone se la ricordano per questo pezzo. Tre parole. Dammi tre parole. Sole, cuore, amore. Chissà che fine ha fatto Valeria Rossi. Incredibile. Nel 2002 Lela Sketchup. Aserehe. Uno dei tormentoni più aggressivi. Guardate che il 2002 e il 2003 sono stati gli anni più aggressivi per i tormentoni estivi. C'era una competizione assurda. Ma Lela Sketchup avevano vinto a mani basse. E durante un viaggio in Spagna ho scoperto anche che Aserehe, il ritornello, che non vuol dire nulla, in realtà fa riferimento ai giovani spagnoli che in discoteca, ascoltando le canzoni inglesi, canticchiano senza sapere le parole. Infatti ho scoperto che Aserehe vuol dire Ai Sedi Tiea. E lì mi si è illuminato e ho detto, caspita, ha un senso incredibile. Nel 2003, un altro tormentone che io detestavo a morte, Chihuahua, di DJ Bobo. Con tanto di balletto, almeno a me lo facevano fare. Quello così, Chihuahua, terribile. Sono quelle classiche cose che vanno di moda. In quel momento lì, appena superate, diventano l'imbarazzo, secondo me. C'era Chihuahua, poi c'erano i Kaleidoscopio. Vosé me appara seo desce umana uana dudu. Quella lì. E poi c'era Jaseina Morara. Jaseina donna dei tribalistas. Grande annata. Nel 2004, ancora, un altro pezzo che purtroppo io associo alla TESMED. Cioè ve lo giuro, ogni volta che parte, perché a volte parte ancora, c'era un film. Ecco, Mammi, Mammi, Mammi forse, di Xavier Dolan. No, Just la Fan du Monde di Xavier Dolan c'era. E io, nonostante fosse una scena in cui avesse un senso a questa canzone, mi immaginavo i sederi che venivano stimolati con il TESMED. Ed era Dragostia d'Inteidi, ai ducci. Grande pezzone, truzzo... Memorabile. Brejna, brejna, numanumayei. Non so il romeno, quindi avrò sbagliato le parole di sicuro. Nel 2005 è iniziato il periodo buio, nel senso che non c'è stato un tormentone veramente stracciapalle. Però la canzone di maggior successo in Italia è stata Quando i bambini fanno O di Povia. Aiuto. Nel 2006, invece, Shakira riporta un po' in auge la musica pop con Ipston Lai. Memorabile il video in cui la sua danza del ventre metteva veramente a tacere tutti. E nel 2007 dominava Rihanna con Umbrella. Ella, ella, he, 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 under my umbrella. Nel 2008, Giussi Ferreri, non ti scordare mai di me. Oddio. Allora, so che a molti piace. Sicuramente, non lo so, ma io proprio quando... Oh no! Non ti scordare mai di me. Nel 2009 si ritorna a un periodo club. Infatti, dal 2007 al 2010 è stato un periodo in cui andava molto la dance stile Bob Sinclair e David Guetta. Poi c'è stato il periodo del proprio truzzo ardito e feroce con i drop e adesso siamo un po'... Poi c'è stata la fase, la fase un po' tropical dance e adesso siamo nel trap più totale, no? Però in quell'anno lì, 2009, c'erano i Black Eyed Peas con I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Dieci anni quasi sono passati. A me sembra l'anno scorso. Nel 2010 Shakira è tornata, purtroppo non con una nuova Yps online ma con Waka Waka. Un pezzo che io detestavo infinitamente, ve lo giuro. Quello è stato il primo tormentone veramente onnipresente dai tempi di DJ Bobbo, credo. Per poi peggiorare la situazione nel 2011 con I Seu Cipego di Michel Telot. Non fatemela più sentire, vi prego. Quando è finita l'estate del 2011 ero quasi contento ma poi nel 2012 è arrivato Gustavo Lima che era la versione poraccia di Michel Telot con cecere, cece, cecere, cece, cece, 드� AD angosciante. Nel 2013 si va in territori trasgri con Robin Thicke e Blurred Lines. You want me? altra canzone che io detestavo ma io i tormentoni li detesto sempre sto cercando di riarrangiare la mia vita su un piano di nostalgico attraverso la musica di un certo livello nel 2014 si torna in territorio latino con Enrique Iglesias bailando bailando nel 2015 una canzone che tutto sommato in realtà non è neanche male Lean On di Major Lazer e qua non ve la sto neanche a spiegare perché ormai sarete tutti cresciuti l'anno scorso il tormentone in realtà non saprei definire qual è stato più tormentone tra Vorrei Ma Non Posto, DJ Axe e Fedez e Andiamo a Comandare di Rovazzi il povero Rovazzi che involontariamente ha lanciato una scia di cloni ovvero gli youtuber che si lanciano in progetti discografici alquanto inverosimili però è tutto molto trash è tutto molto allettante per il sottoscritto il tormentone di quest'anno è sicuramente despassito e io finora sono sfuggito dall'ascoltarla per intero e spero di sfuggire prima che finisca prima che l'estate concluda non voglio proprio sentirla quello che ho sentito mi basta e avanza e scoprire che Justin Bieber ha fatto il remix mi hanno riferito a questa cosa mi hanno detto ma come Justin ma cosa fai ma fermo lì vabbè niente è una carrellata molto frivola sulle canzoni estive veramente onnipresenti fatemi sapere che cos'era il tormentone di quando siete nati e se vi piacciono le canzoni frivole dell'estate in caso qual è la vostra preferita io votando tra queste vabbè ovviamente Barbie Girl credo sì sì è quella con più classe fatemi sapere la vostra fatemi sapere quella che avete odiato di più io credo ai se u ci pego probabilmente sì beh oddio no è una bella lotta ce ne sono tante quelle degli anni 90 mi piacciono tutte in verità dei 2000 e 2010 ai se u ci pego sicuramente però in realtà quelle degli anni 90 mi piacciono perché mi ricordano il periodo quindi per capire se mi danno nostalgia devo aspettare 10 anni niente fatemi sapere se anche voi siete d'accordo io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video ciao ciao